Salve a tutti ragazzi e bentornati su questo nuovissimo video Io sono OnzuFace, oggi cercheremo questo gioco che si chiama Theme Park Ho già fatto un pochino di mio park per questo Non volevo farvelo vedere Adesso lo faccio vedere Guardate, sortino Spark Una stella C'è già un sacco di gente, ho fatto già un pochino Posso anche fare io quello che voglio Ah, faccio quello che voglio Ehi Perché c'è quello di tanto pattume qua Comunque sì Comunque sì Adesso guarderemo un po' Vediamo Tutto questo costruito io Cioè guardate, adesso vi faccio Mamma mia Pizzeria Posso andare sopra il tettino Ma salta un gucci Oh Cosa? Ah, per imponire Pizzera Questo è il bagno Me lo preferisco Andare a cagare Ma adesso C'è anche il roller coaster L'ho fatto Ok, la montagna Comunque la russa Posso fare Posso fare anch'io le mie cose, guarda Cosa che ho costruito Posso fare anch'io Da che si parte Da che si parte No Moio Spiro slime E vabbè Adesso Guarda Beh Pochettino di soldi c'è lì Io Fino adesso ho abbastanza soldi per costruire il mio secondo Il mio secondo rollerco Eeeh no Sette Ma questo mi piacerebbe fare No, questo fa abbastanza carare Non questo Ma sono tutti uguali Ah no Questa si che è grande Ma con 24.000 euro Ma con quale ragione 24.000 euro Ok Ehm Dai Chioma stella Ho avuto prima Zero stelle Poi mezza Poi uno Poi uno Poi mezza Poi Adesso uno Dai mio record Due stelle Il mio record è stato Uno e mezzo Dai che posso farci Sare due Beh infatti Loro non ho ragione Non posso fare Le stesse cose Devo anche Aggiornare un po' Ok Sono deficienti Loro Comunque Ho abbastanza Per fare Questa cosa Che vorrei fare Intense ride Ma con quale Il doppeltower Cos'è? 12.000 Per una cosa del genere Cos'è Graviton Topletower Questo Uuuuuh Vabbè Tutti Sono cavato Di giochi Li giochi Ragazzi Proviamo questo Oh mi dispiace Ragazzi Ma è già partito Così Oh Ok E adesso E adesso Oh mamma mia Oh mamma mia Ok Abbastanza Bello Si può anche Decidere il nome Guardate Guardate Enter build mode Minister Per questo Mini round Ma qualcuno Mi spiega Anche questo Around the world Cioè Ma questo va in tutte le direzze Guarda che mi faccio Scricciare Schiacciami Schiacciami Come Come mi hanno ucciso Non riesco a nemmeno più a morire Oh Oh mio dio Oh mio dio Ok Ok Tico Allora Basta Il palco è chiuso Dai Ora di chiudere Andate tutti Via dal palco Via Via Tu vattene Perché è notte Che è notte Si deve aggiornare Devi aggiornare Devi aggiornare Alessandro Mio cugino Alessandro Andate Tutti via Tutti via Tutti via Via Andate Andate Dai Chi mi sto già cagliando sotto Andate Corretemi Ciao Una stella Ora di aggiornare Mi serve ancora un pochino di soldi Potete entrare se volete Medison Madison Macy Ma sono praticamente tutte femmine Quasi Dai Entrate Entrate Sono chiuso Una piccola retta Ma che se ne frega Andate 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 Sarà aperto Fino A Ho 13 persone Ho 13 persone Dai che sto diventando popolo Intanto ragazzi Vuol dire una cosa Dai che possiamo arrivare Stiamo per Sto per avere 20 iscritti Dai 20 iscritti Ci proviamo Sto per avere 20 iscritti No 18 Per favore Fate Fate I bravi Per favore Si Se mettete like Se mettete like Allora Se mettete like Iscrivetevi Almeno like O almeno 1 di 2 Tu Voi potrete Unirmi Nel mio parco E costruire con me Così ci vedremo Perché davvero No Non so Robi Ax Ok Dai Giovanni Non si scrive In quel modo Giovanni 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 Ma Giovanni Dillo Subito Un pezzo Di pizza Pur Ma Perché se non ci vuole andare Basta far così Pazienza Ci vado io Oh No Tua madre Tua madre Tua madre Oh Dai Tu Volevo prendere il mio record Oh Senti Dai Ce ne vada Per favore Per favore Per favore Almeno Uno e mezzo Ciao Ciao Io abbandono il mio parco Perché se tutti brutti Ridicoli Schifoni Che gentili Che gentili Ma perché adesso Lo metto Like in video Tutti fanno la stessa cosa Come le mie cose Però Non lo rivocevo Come è stato Non so Non lo rivocevo Basta Non ho Non ho Basta Likes perchè voi avete mentito su me cosa che stanno io voglio tutti bene ma soprattutto quando mettete anche iscrivetevi get item cos'è? post io voglio qualcuno oh dopo vorrei togliere le mie mani non voglio più basta oh sono vecino per la persona è qua ok oppala ok ho potuto un attimo andare via lo parco perchè vorrei aggiornare qualcosa dai dai tutti via hop 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 tutti via ho potuto un attimo che Un parco divertimenti. Vogliamo essere amici su Roblox? C C No! Porca! Ciccio! Dove sei? Ciccio! 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 No, no, no. Oh, no, 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 no. ciao ciao ragazzi è stato bello che non lo segui ancora guardo giu sei troppo no no quante violenta mamma mia non lo segui Ehm... il mio barco ciao puoi venire dai rispondimi rispondimi ciao ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. 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 Grazie. Grazie. Facendo tanti soldi. Ho fatto 800 euro. In due minuti. 800 euro. Ok. 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 ragazzi. Spero che il video mi sia piaciuto. Oggi è tutto. Oggi è tutto. Oggi è tutto. Ci vedremo in un prossimo video. Ciao.